il cortometraggio innanzitutto secondo te che cos'è è un è un film corto di lunghezza è un sottoprodotto è un vorrei ma non posso cos'è io lo prendo come un esercizio di stile anche se ha un linguaggio completamente diverso da quello del lungometraggio lo utilizzo in quel modo cerco di raccontare una storia come fosse un lungometraggio però quindi un film corto come detto tu prima e credo sia un'opportunità per un per un filmmaker per un regista di farsi conoscere di provare delle tecniche di vedere se un prodotto può funzionare o meno e poi magari espanderlo e farlo diventare un film io personalmente lo utilizzo per sperimentare determinate cose anche se so che ha un linguaggio diverso nel cortometraggio devi colpire subito con un knock out perché così il linguaggio del corto è così non hai il tempo di sviluppare realmente una storia sento in un periodo particolare della mia vita che vivo un qualcosa che voglio raccontarlo voglio provare a raccontarlo a modo mio in un certo senso non ne puoi fare a meno no no non me l'ha ordinato nessuno è assolutamente anche se sai che probabilmente quella cosa non ti renderà neanche un centesimo tu la fai lo stesso certo certo ma è difficile un corto ti renda qualcosa è veramente difficile aspetta io penso a loro cioè è perché tu alla fine stai dicendo a loro guardate che se la vostra motivazione è quella di arricchirvi avete sbagliato avete sbagliato assolutamente quello sì assolutamente cioè no per carità poi magari fai un cortometraggio eccezionale che vince un sacco di premi e allora da lì puoi vincere qualcosa cioè puoi guadagnare qualcosa ma altrimenti no un corto deve essere credo sia un prodotto fatto solo quasi esclusivamente di passione pura quindi non puoi aspettarti altro tu sei anche un bravissimo attore io se qualcuno di voi l'ha visto sarà d'accordo con me lui è molto bravo veramente caso mai ti dà fastidio il paragone ma io ti dico mi ricordi il primo moretti no in un'altra versione il primo e poi dopo a me moretti non è più piaciuto per niente dico però ecco perché lo fai per motivi di budget oppure perché ti diverte cosa lo faccio cosa l'attore no l'attore lo faccio perché mi piace perché ho sempre fatto quello studiato teatro da quando avevo 16 anni quindi non saprei fare altro però in più è nata anche questa passione per la regia e a me piace poter fare tutto è vero che non si può fare tutto nella vita perché sennò si rischia di farlo poco e male però ci sono anche dei grandi esempi che riescono a fare entrambe le cose però tu sei bravo mentre ci sono molti filmmaker che fanno gli attori questo dico a voi che non dovreste fare gli attori perché è meglio che lo fate fare a qualcun altro che se uno è bravo va bene ma se non è bravo vi rovinante il film e quindi riuscire a trovare il giusto bilanciamento tra le due cose come fai Jacopo a trovare i soldi per girare io non li trovo non lo devi chiedere a me io infatti lo faccio per pura passione sperando poi un giorno di qual è la tua ispirazione chiudiamo con questo cos'è che ti ispira mi ispira la gente la vita reale di tutti i giorni e le esperienze che faccio io mi piace raccontarle quindi non vado alla ricerca di niente mi piace osservare quindi mi faccio prendere a tutto quello che osserva in generale diceva alessandro signetto che tutto deve nascere a fine dalla scrittura cioè cari filmmaker se voi non prendete una penna prima di girare vi mettete a scrivere quello che volete fare probabilmente non arrivate da nessuna parte la pensi anche tu perché c'è un altro modo per per fare un cortometraggio io per me è l'unico modo anche perché quando scrivi vedi le immagini che stai scrivendo automaticamente stai già facendo un premontato insomma in testa